Un commento alle parole di Beppe Grillo che ha detto andiamo a votare col Porcellum, vinciamo noi. Come considera questo cambio di casacca del leader del Movimento 5 Stelle? Beppe Grillo ha un obiettivo distruttivo, quindi non va giudicato sulla base della coerenza delle posizioni che assume perché magari domani dirà che mai a votare con il Porcellum, come l'ha detto l'altro ieri. Quindi Grillo ha un obiettivo distruttivo, non vuole le riforme, vuole il caos perché spera che attraverso il caos riesca a recuperare qualche posizione. Le trovo parole irresponsabili perché fare una crisi di governo ora, andare a votare ora, farebbe pagare agli italiani un prezzo altissimo. Sono soltanto chi è irresponsabile può fare proposte del genere. Dopodiché, come ha detto Franceschini, governabilità non vuol dire ricattabilità, però deve essere chiaro che chi si assume la responsabilità di far cadere il governo si assume una responsabilità grave e quindi bisogna evitare, dobbiamo fare appello alle forze responsabili affinché questo non avvenga e non si può ospicare come fa Grillo in modo così disinvolto perché pagherebbero, non lui che se ne sta tranquillo nelle sue ville milionarie, ma pagherebbero i disoccupati, pagherebbero le famiglie che non arrivano alla quarta settimana, pagherebbero i pensionati al minimo e sarebbe davvero un prezzo troppo elevato. Grazie.